Come si sta muovendo il PD nell'Alto Casertano? Il PD nell'Alto Casertano si sta muovendo più o meno come si sta muovendo nell'intera provincia, anzi devo dire con orgoglio che io sono di origine, voi sapete, locale, vengo da queste terri, ho avuto il piacere e l'onore che ho avuto questo incarico importante nel partito, quindi non lo nascondo, mi perdono gli altri della provincia, ma guardo con molta attenzione questo territorio, che ritengo un territorio fondamentale e non raggio dello sviluppo dell'intera provincia, ancora sano, ancora in via di definizione, con delle risorse sia di umane, di idea e con un territorio ancora appetibile per investimenti, per abitabilità e per le caratteristiche che ha. Per quanto riguarda strettamente l'organizzazione del partito, in questi giorni dal 1 ottobre del partito di tesseramento in tutti i circoli ci stavano molte realtà, molti circoli, nonostante ci stavano dei risultati elettorali, ancora non avevano un'organizzazione vera e propria, dove noi insieme ad altri, e su questo voglio ringraziare l'impegno degli amministratori, dei coordinatori dei circoli più importanti, paesi capofili, piedi monti, che abbiamo la massima espressione, che il sindaco Enzo Cappello, mio collega nella segreteria provinciale, con responsabilità degli enti locali, siamo un momento e sensibilizzando per fare un tesseramento con le regole stabilite, siamo il partito delle regole, siamo il partito della trasparenza, e intendiamo continuare così. Posso assicurare che per la fine di dicembre sarà chiuso il tesseramento in ogni realtà, in ogni comune del comprensorio dell'Arto Casertano, e entro il 31 marzo saranno celebrati i congressi, quindi il partito sarà in ogni comune, sarà sui temi più importanti del territorio, e penso che questa è un'unta lunga, sentiamo addosso la responsabilità del governo, siamo assistenti alla disfatta del centro-destra, e quindi ci sentiamo maggiormente pronti e responsabilizzati per dare le risposte diverse, più concrete e più attinenti al territorio. Il 5 novembre ci sarà una manifestazione importante a Roma, alla quale parteciperà anche il PD. Dobbiamo partecipare fortemente, far sentire la nostra voce alla manifestazione a Roma, che il PD, con un grosso sforzo organizzativo, sta cercando di far sentire, di fare questa manifestazione molto partecipata dalla base, dai militanti, dai simpatizzanti, e colgo l'occasione per fare l'invito di una partecipazione massiccia, soprattutto da questo territorio, tenendo presente che noi come sforzo organizzativo organizzeremo dei pullman gratuiti, cercheremo di diversificare le partenze, agevolare il più possibile l'accesso. Io spero che sarà una manifestazione, non penso che sarà una festa, perché viviamo un momento particolare per la nazione di crisi contingenti, di cui non possiamo sottrarci con atti responsabili, però è giusto far sentire il dissenso alla voce a questo governo che si è dimostrato incapace su tutti i fronti.